Che tema avete scelto per questo 8 di marzo? Questo 8 di marzo lo dedichiamo al decreto Pillon, anzi ai decreti collegati con Pillon e a un elemento che esiste nel contratto di governo che è quella della riforma del diritto di famiglia. Noi riteniamo sia importante fare un focus uomini e donne insieme su questo ragionamento, CGL, CISL, Will, tutti insieme, perché ci sembra che all'interno di queste proposte ci siano una serie di temi che non possono essere affrontati con leggerezza. Innanzitutto perché secondo tanti professionisti che hanno parlato rispetto a questo decreto la bigenitorialità perfetta non esiste, non esiste nemmeno nei matrimoni che vanno bene, in cui non ci sono problemi, per cui tanto meno esiste quando ci sono dei motivi di separazione. L'altro motivo è che non esiste una situazione sempre paritaria all'interno dei matrimoni, soprattutto se ci sono problemi anche di violenza familiare, in genere la parte più debole è quella delle donne. Non tenerne conto in fase di separazione, soprattutto per l'affidamento dei figli, diventa veramente una questione discriminatoria. La cosa più drammatica è che si cerca di far passare questo decreto come in sordina, come se si fosse non spiegandolo per bene. Quindi il nostro sforzo qual è? Cercare di parlare a più donne e uomini possibili per spiegare bene. Infatti vengono proprio tre persone che sono anche giuridicamente, spiegano i risvolti appunto di questo decreto sul diritto di famiglia, capaci di poter portare la conoscenza, questa presa di coscienza che tutti noi dovremmo avere.